Allora, parliamo del turno di Serie A che si è appena concluso e con esso si è chiusa anche una prima parte di stagione, diciamo, in questo mini torneo, in questo strano campionato spezzettato, causa osceno mondiale in inverno, beh in autunno, insomma diciamo novembre-dicembre, che fermerà tutto e quindi si sono già giocate diverse partite, si è già giocata una buona parte di campionato, si sono giocate anche già due giornate di Champions League, insomma abbiamo visto tante tante gare, adesso ci sarà la sosta per le nazionali che mai, come in questo momento, sarà inopportuna perché, insomma, sarebbe stato meglio non mettere adesso questo turno di Nations League, comunque va bene, speriamo che non ci siano grosse conseguenze per quel che riguarda il Milan, anche se alcuni giocatori si sono già, diciamo, sottratti in un certo senso a questo impegno, e comunque questa pausa ci dà l'opportunità per fare un primo mini bilancio di questa stagione, poi nei prossimi giorni lo faremo specifico per il Milan, andando anche ad analizzare i troppi gol presi, ma qui parliamo un po' della Serie A, ed è stata una giornata veramente strana quella di ieri, perché quella di ieri e dell'altro ieri, e anche poi fino a venerdì, perché si è cominciato venerdì con Salernità Nalecce. È stata una giornata strana perché hanno perso l'Inter, ha perso la Juventus, abbiamo perso noi, ha perso la Roma, in un torneo che presenta una strana classifica, nel senso che se per il Napoli non ci sono dubbi, nel senso che potevamo aspettarcelo lì a questo punto della stagione, e con lui c'è l'Atalanta a 17, poi c'è l'Udinese a 16, Lazio-Milan a 14, e addirittura 12 l'Inter e la Juventus a 10. Adesso non ho la statistica precisa, però praticamente tutte le squadre di vertice, inteso come Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma, hanno fatto meno punti rispetto l'anno scorso a questo punto della stagione. E quindi evidentemente è un campionato diverso, poi è chiaro che si dovrebbe fare un po' la tara su quelli che sono stati gli avversari, perché tutto sommato noi abbiamo già giocato con l'Inter, con il Napoli, con l'Atalanta, con l'Udinese, per cui abbiamo già affrontato un po' di squadre che occupano i primi posti della classifica. Di certo le due notizie più grosse sono quelle della sconfitta della Juventus e dell'Inter, perché la sconfitta del Milan, diciamo, in un certo senso ci poteva anche stare, visto che affrontava una concorrente per lo scudetto al momento. La sconfitta dell'Inter maturata qui a Udinese è stata una sconfitta giusta, un po' per l'ottima partita dell'Udinese, e questa non è una novità, devo dire che l'Udinese è veramente sorprendente in questa prima parte di stagione, vedremo se avrà poi la forza per continuare lungo tutto l'anno, ed essere una squadra potenzialmente in lotta per l'Europa. In questo momento però è una squadra che sta molto bene fisicamente, che fa un calcio di quelli che bisogna fare adesso, cioè un calcio di pressione, un calcio di intensità, che sono un po' le caratteristiche anche del Milan e la caratteristica del Napoli. L'Atalanta sta cercando di cambiare un po', ma comunque è una squadra che ci mette sempre per l'appunto intensità, e non è un caso che di fronte a squadre che invece non riescono in questo momento a generare un ritmo e un certo tipo di frequenza, chi ha gamba e chi ha anche tecnica poi, perché comunque i giocatori dell'Udinese insomma hanno dimostrato di avere anche una buonissima tecnica, prevale, ed è quello che è accaduto ieri a Udine, con la vittoria dell'Udinese, una vittoria meritata, secondo me con un Inter che veramente è in una fase di involuzione pazzesca dal punto di vista del gioco, dalla quale non si vede via d'uscita al momento, perché non mi sembra che Simone Inzaghi abbia innanzitutto le idee chiare in senso assoluto, e poi le idee chiare anche nello specifico, cioè non mi pare di vedere qualche idea alternativa, in più ci sono ad esempio di giocatori come Aslani che sono spariti dai radar, i due cambi di ieri alla mezz'ora sono stati anche per certi versi grotteschi, e penso che Bastoni la pensi come me, per una squadra che ha perso un po' la sua identità, ha perso la solidità difensiva, ha perso la capacità di fare gol, tutto sommato, ha perso quelle caratteristiche che Simone Inzaghi sembrava essere riuscito a trasmettere l'anno scorso, a questo punto molti tifosi dell'Inter si domandano se quella dell'anno scorso non sia stata una stagione in realtà caratterizzata da un proseguio del lavoro di Antonio Conte, e quest'anno si vede la mano di Inzaghi in senso negativo, lo dirà il tempo, lo dirà anche il calendario, perché la ripresa su un'Inter Roma molto interessante, anche se qualche tifoso delle altre squadre pensa già che Murigno si scanserà, ma Murigno ha i suoi guai comunque in campionato perché ha perso con l'Atalanta. Credo che l'Inter abbia bisogno di resettarsi da un punto di vista mentale, non può essere la sola assenza di un Lukaku che comunque nella prima parte di stagione aveva fatto cose buone e cose meno buone a determinare un periodo così negativo. Non credo che la situazione dello spogliatoio, per quanto probabilmente non idilliaca, possa essere paragonata a quello che vive lo spogliatoio della Juventus, che concede al Monza, o per meglio dire, concede un ciuffolo. Il Monza si prende i primi tre punti della sua storia in Serie A, la prima vittoria, lo fa al termine di una gara tutt'altro che eccezionale, c'è da dire la verità, cioè qui è la classica partita dove le colpe della squadra più forte sono probabilmente più grandi rispetto ai meriti della squadra più piccola, non come nel caso di Udinese-Inter, dove invece l'Udinese ha meritato di vincere. Qui il Monza ha giocato una partita normale, ma il problema è che la Juventus ha giocato una pessima partita. Non si è notata alcuna differenza nel momento in cui è rimasta in dieci, per l'espulsione di Maria. Ritmo sempre compassato, poche idee, poche occasioni da gol. Vlaovic è servito malissimo, ma d'altronde, l'abbiamo sempre detto su questo canale, quando tu hai un centrocampo così, e Paredes non è il giocatore che può darti quel tipo di, come dire, di idea in mezzo al campo, ma più che altro, vedete, qui secondo me non è nemmeno una questione di uomini, è proprio una questione di squadra, cioè la squadra non c'è. L'Aventus è l'espressione di un gruppo di singoli, probabilmente qualcuno gioca nemmeno con tanta convinzione, che non hanno un'idea, non sanno che cosa fare in campo, non si sono evoluti nel corso di quest'anno e mezzo con Allegri e sono in balia degli eventi, oltretutto con un allenatore che in questo momento, secondo me, anche per via di tutte le vicende, dell'intervista non concessa e tutte queste cose qui, si sente da un lato sicuro della sua posizione e quindi probabilmente anche se ne frega, perché dice, insomma, con il contratto che ho, i dirigenti hanno fatto capire che non c'è spazio di manovra per cacciarmi e quindi evidentemente lui si sente fermo su questa posizione, probabilmente è anche convinto di riuscire a raddrizzare la baracca, cosa che io vedo molto molto difficile, proprio perché non ha, a differenza dell'Inter, che comunque una sua identità ce l'aveva, che poi possa piacere o no, che poi possa funzionare sempre o no, ma comunque aveva una sua idea. Simone Zaghi era riuscito a portare una sua idea, a cercare di cambiare un po' il modo di giocare l'Inter rispetto al periodo Conte. Un po' del suo ce l'aveva messo, Allegri non ha messo nulla in questa squadra, nulla, perché è una squadra che vuole fare costruzione dal basso senza saperla fare, è una squadra che vuole sfruttare le fasce senza saperlo fare o non avendo giocatori adatti per farlo, è una squadra che non va centralmente, è una squadra che in difesa balla, le distanze, i movimenti dei giocatori, cioè tutto quello che noi vediamo fare, ad esempio al Milan, al Napoli, ma anche all'Udinese, all'Atalanta, lì non ci sono, non c'è niente, cioè non c'è niente, c'è una squadra che veramente arranca in una situazione, credo anche di spogliatoio, piuttosto complicata, qualche tifoso della Juve dice ad esempio che Bonucci e Allegri abbiamo di nuovo litigato e per questo motivo Bonucci è stato messo in panchina una situazione molto molto delicata perché alla ripresa del campionato la Juventus giocherà, aspetta che te lo dico, alla ripresa del campionato la Juventus giocherà col Bologna e vabbè, uno direbbe gioca in casa col Bologna ma anche lì è da vedere come va e poi c'è la sfida con il Milan il sabato dopo in mezzo al doppio confronto col Maccabi Haifa che deve assolutamente vincere per cui per la Juve è una situazione tutt'altro che semplice anzi, non lo so che intenzioni hanno i dirigenti oggi non ci sono stati comunicati la posizione di Allegri al momento pare non essere in discussione anche perché credo che sia una questione di alternative oltre che di stipendio perché in questo momento l'unico profilo che magari poteva dare una scossa poteva essere quello di De Zerbi che però è andato a Brighton ma anche De Zerbi non è un allenatore che arriva intanto non ha mai allenato una grande squadra e poi non è uno che arriva e può così schioccando le dita a farti fare un filotto di 10 vittorie ecco perché ci sono dei problemi secondo me proprio strutturali nella formazione della Juventus cosa che l'Inter ha meno da questo punto di vista quindi è andata così poi ci siamo noi che abbiamo perso questa partita con il Napoli una partita che ribadisco non meritavamo di perdere ma credo che anche i tifosi del Napoli e ne ho ascoltato qualcuno su Youtube quelli diciamo obiettivi si siano resi conto insomma che la loro squadra è stata brava e fortunata nel riuscire a vincere a San Siro cosa molto difficile molto difficile conferma che il Napoli è un bel progetto in questo momento che funziona e Spalletti ha trovato una bella quadra con con Lobotka ha trovato una bella quadra naturalmente con Quaraskelia ma non era difficile e devo dire che per una squadra insomma che si è rinnovata molto essere in testa alla classifica venire a vincere a Milano è un grande risultato devo dire la verità ma ma se il Napoli può essere contento e fiero di questo risultato noi non dobbiamo abbatterci non dobbiamo sentirci sconfitti ecco non dobbiamo sentirci sconfitti e Milano ha perso una partita e capita per fortuna poco a noi tant'è che quasi quasi tra il post partita di ieri anche un po' la compagnia della live di oggi siamo stati quasi un pochino spiazzati nel dover gestire le emozioni di una condizione nella quale non ci si trovava da più di 20 partite per cui va bene è normale lo sport ai giocavi contro una grande squadra che sta facendo veramente un ottimo campionato e per questo motivo si ripartirà poi con questo duello il Napoli avrà un calendario un pochino più abbordabile nelle prossime 3-4 partite mi pare di aver visto così ci sarà la Champions di mezzo quindi vedremo sta facendo molto bene l'Udinese dicevamo sta facendo molto bene l'Atalanta l'Atalanta che vince Roma 1-0 lo fa al termine di una partita abbastanza asciutta nel senso che al di là del finale che si è un po' movimentato perché la Roma è riuscita a creare delle occasioni nel primo tempo è stata una partita veramente molto brutta la famosa partita da più calci che calcio nel finale di partita si è un po' mossa ma l'Atalanta ha la miglior difesa del campionato quella che è stata quello che è stato il grande problema dell'anno scorso della Dea cioè aver smarrito l'equilibrio vuoi per mancanze di energie ad un certo punto vuoi per una difficoltà tra le mura amiche a fare il risultato quest'anno invece si sta ribaltando è una squadra che segna meno infatti tra le prime 5 e quella che ha fatto meno gol ne ha fatti solo 11 però è la migliore difesa del torneo ha subito solamente 3 gol in 7 partite handicap che invece pesa sulla schiena del Milan che delle prime 6 è quella che ha subito più gol poi in realtà se andiamo a guardare l'Udinese ne ha presi 7 la Roma ne ha presi 7 la Lazio ne ha presi 5 noi ne abbiamo subiti 8 non è che abbiamo non è che abbiamo una difesa con la Brodo però è chiaro che con qualche gol in meno subito potevamo essere lassù in testa alla classifica ma al di là di questo è un torneo che come si vede dalla dalla praticamente dalla settima che è l'Inter alla prima che è il Napoli ci sono 5 punti quindi 5 punti ci sono 7 squadre sarà importante per tutte non perdere terreno in questo momento della stagione alla ripresa del campionato perché si giocherà poi ininterrottamente fino a praticamente metà novembre quando si sospenderà tutto per lo Scempio ed è un campionato che comunque ha dato un paio di risposte secondo me importanti per i tifosi della Lazio e i tifosi della Fiorentina che due squadre che delle quali abbiamo parlato quando abbiamo parlato del turno di Coppa due squadre che avevano fatto veramente pena in Europa schifo la Lazio ma lo dicono i tifosi della Lazio quindi posso permettermi di usare la loro espressione aveva fatto schifo la Lazio e aveva fatto pena la Fiorentina invece ieri diciamo la Fiorentina ha fatto meno pena e ha vinto la partita tra l'altro con gol di Conè ed è anche abbastanza così simbolica la cosa la Lazio invece ha vinto bene sul campo di una squadra in grande difficoltà che prende tanti gol destinata a meno di un cambio di rotta probabilmente a lasciare la categoria così come secondo me il Monza che al di là della vittoria di ieri resta una squadra molto debole per la categoria invece il resto della giornata visto la vittoria l'ultimo minuto del Sassuolo sul campo del Torino importante tra l'altro a Sassuolo mancavano anche tantissimi giocatori l'importantissima e meritata vittoria del Lecce a Salerno che vince bene con due gol belli il secondo di Strefezza che ormai è abbonato a questo tipo di gol molto bello e vince in casa della Salernitana seppur la squadra di Nicola abbia giocato probabilmente la peggiore partita della stagione ma non è una passeggiata per cui complimenti a Baroni a Lecce complimenti a Lempoli che sarà il nostro prossimo avversario in campionato che vince 1-0 a Bologna nella prima ufficiale diciamo di Tiago Motto in panchina Bologna che non ha giocato bene ma ha avuto le occasioni per segnare il palo clamoroso di Arnautovic e altre situazioni il risultato non è del tutto diciamo ingiusto però se fosse finita in parità non ci sarebbe stato nulla da dire e poi il maestro il povero Giampaolo che fumava nervosamente Sigari in tribuna da squalificato mentre vedeva la sua Sampdoria passare in vantaggio con un gol di Sabiri meraviglioso gol bellissimo e poi farsi rimontare per lasciare la Samp mestamente ultima in classifica insieme alla Cremonese con due soli punti e soprattutto il peggior attacco del campionato insieme al Monza solamente quattro gol subiti una squadra con grosse difficoltà che vanno dalla proprietà alla dirigenza a scendere fino alla squadra una squadra secondo me non così debole da ultimo posto non così debole cioè i valori sono superiori secondo me alla Cremonese al Monza sarebbe potuta giocare anche con lo Spezia però deve darsi da fare perché adesso comincia insomma adesso è a tre punti dalla zona salvezza quindi non è niente però si sta poco a finire nel cul de sac e poi dopo a farsi trascinare dalla corrente verso situazioni che poi diventano difficilmente recuperabili perché non è che Nicola e la Serenitana capitano tutti gli anni questo era il punto ci sentiremo come dicevo per parlare del Milan di un primo bilancio di questi di questi primi di questi primi due mesi mese e mezzo insomma di partite vedremo la questione della difesa e poi dopo insomma nei prossimi giorni altre cose ovviamente ci sarà la sosta per cui cambieranno un po' anche i nostri programmi ma avremo modo di parlare di pallone magari proprio delle partite anche dell'Italia quindi buona serata a tutti